Siamo ad Ortas, a pochi passi da Betlemme, qui in questa valle che potrebbe sembrare scomparire nel nulla, si apre invece questo meraviglioso panorama di questa costruzione dedicata a Santa Maria dell'Orto, perché Ortas, come dice anche il nome, ci ricorda gli orti, in particolare l'Orto, la valle degli orti di Salomone. Qui a nord ci sono le vasche ancora e qui ci sono sorgenti, ci sono tanti orti ancora coltivati a motivo di questa presenza di acqua. Siamo a ottobre e si inizia, si sta svolgendo la campagna della raccolta delle olive. Ecco, la proprietà possiede anche la parte sulla montagna e sulla montagna ci sono tanti olivi e sono venuti dei volontari italiani ad aiutare le suore a raccogliere questa oliva, che è il principale prodotto di questa terra. Oggi faremo un giretto sulla montagna per conoscere questa attività di raccolta delle olive e soprattutto questi volontari venuti dall'Italia. Ci fermiamo a Mezzacosta per vedere sul fondo valle, perché da questo posto si vede bello, questa valle che è appunto la valle di Ortas, da cui anche il santuario trae il nome. Perché al principio, nella parte più alta della valle, dove c'è quella mezza foresta di Pini, ci sono proprio le vasche cosiddette di Salomone, che sono antichissime, che siano proprio di Salomone e da vedere. Ma sono antichissime e fino a qualche anno fa funzionavano perfettamente. Poi quei dissesti idrogeologici della zona, adesso una fonte si è rinsecchita, le vasche sono diventate un po' pericolose, ma ci sono ancora per chi le vuole visitare. Ecco, questa valle comunque continua a rimanere verdissima e nella parte più bassa assai coltivata ancora ad Orti. Ora siamo saliti sul monte che sta a ridosso del santuario, in cerca dei lavoratori che stanno raccogliendo l'oliva. Ecco, questa montagna è abbastanza elevata da qui, soprattutto dalla cima della montagna, si vede sia la valle di Ortas che una parte di Betlemme e quando c'è sereno, da sopra si vede anche il Mar Morto. Qui sulla collina ci sono questi volontari italiani, assieme a qualche dipendente arabo delle suore, che stanno raccogliendo in questo momento l'oliva. Lavoro è il solito, siamo abituati, ma questa è la stagione, tutti qui raccolgono oliva, che è un prodotto abbondante, tipico, caratteristico e di cui si fa molto uso non solo per l'olio, che è usato anche questo in modo molto abbondante, ma anche per il consumo di oliva sia in salamoia, sia non in salamoia. Ecco, andiamo a vedere questi operai che fanno parte di un'associazione italiana chiamata IMO, ma ne parliamo con loro. Prima però di parlare con i volontari, dobbiamo incontrare la Capa qui, che è la sua rassunta, perché in mezzo a questi lavoratori, con sorpresa, abbiamo trovato che c'è anche lei, e non solo in un ruolo qualunque, ma nel ruolo di Capa. Ecco, a lei diciamo che tanti anni che è qui, presiede a questo lavoro, questa produzione di olio di oliva serve un po' per tenere coltivati i campi, secondo le intenzioni del fondatore, si dà un po' di lavoro anche alle persone ed è anche un provento per il convento. È un dono di Dio, prima di tutto quello che tu raccogli, perché Dio è quello che ci dà, ci dà il frutto e noi col lavoro che lui ci dà, ci dà la produzione, e noi possiamo vivere un pochino prima noi, perché un po' vendiamo, un po' regaliamo alle persone che ci fanno dei piaceri e che non vogliono essere ricambiate. In un altro modo, allora noi diciamo, un po' mandiamo anche a casa madre, che quest'anno abbiamo mandato un po' di olio, e alle persone che ci vengono a chiedere, qualcuno che ci ha dato un po' di oliva e poi lo fruttiamo noi per la nostra comunità. Dobbiamo ringraziare molto Imo, che veramente loro vengono volentieri e per noi hanno aiuto grande per la casa e per la comunità. Non so come ringraziarli veramente, che sono molto affabili, bravi, generosi, hanno tutte le qualità veramente di essere lottati. Voi venite per le olive con l'Imo per dare una mano, mi pare però che fate un grande bene anche alle suore, non solo di ordine economico, ma qui si sentono molto più in famiglia quando ci siete voi con questo spirito e con questa operatività. Noi ci sentiamo amati dalle suore, ciò che conta la sera è avere amato, ciò che conta la sera è aver dato. Noi amiamo e noi diamo, siamo amati e siamo donati. La presenza di queste suore in questo contesto è una presenza importantissima, prima di tutto perché da suore cristiane sono aperte a tutte, per cui abbracciano tutti indistintamente di qualsiasi religione, si mettono a disposizione di tutti, di questi ragazzi, soprattutto con la scuola qua in particolare, qua a D'Ortaso, si mettono a disposizione proprio di tutti, non fanno differenze di ceti sociali, di religioni, assolutamente. Aprofittiamo della pausa pranzo per chiedere qui cos'è questa IMU di cui ho sentito parlare ma non ho mai capito nulla. È un'associazione che è partita un po' in sordina, non vuole fare grande reclamo, il significato è impegno medio oriente. In poche parole fare presenza laddove non c'è presenza cristiana nei nostri, negli istituti delle suore, nei salesiani, soprattutto anche dai frati francescani, dove c'è bisogno inizialmente partita con questo obiettivo. Vivete quindi in una zona di confine e anche di conflitto, avete avuto paura a stare qui in mezzo ai campi? Ma guarda, assolutamente no, per quanto mi riguarda no, assolutamente paura. Viviamo tranquillamente le nostre giornate, l'unica cosa che non facciamo è andare in giro, ma ci troviamo benissimo anche qua tra di noi, ci troviamo bene, senza nessunissimo problema, senza nessun problema e senza nessuna paura. Mi spiace dover condividere con gli altri dall'altra parte, con gli ebrei, con un filo spinato in mezzo. C'è un filo spinato che purtroppo demarca queste zone che non dovrebbe esserci, non ci dovrebbe essere. Se torna Gesù Cristo sarebbe una bella cosa, perché credo che da allora ad adesso siano cambiate tante cose, ma in meglio poche. È un altro contesto di tutto, da come siamo noi abituati e via dicendo. Poi adesso in questo periodo con questi disaccordi israeliani, insomma è un brutto vivere, credo per loro, per noi relativamente, perché invece di andare in giro stiamo qua con la speranza l'anno prossimo poter girare dappertutto. Cosa diresti a qualche altro italiano che conosci sul Milanese o altrove? Li consiglieresti questa esperienza? Ma sì, è molto bella perché, oltre a quello, stanchi e felici, che è bellissimo come motto, ma c'è poi lo spirito di riuscire a condividere la giornata con persone con le quali siamo amici, ma non c'è una frequentazione dalla mattina alla sera. Ci alziamo assieme, andiamo a letto praticamente assieme, quindi condividiamo il pasto. Tutte le ore e anche i piccoli momenti di relax come questo, la pausa pranzo durante la raccolta delle olive, quindi la condivisione del tempo e del condividere con tutti un po' le fatiche, il carattere un po' più difficile, quello più allegro, quindi cogliere tutti gli aspetti belli e anche quelli meno belli, ma saperli accettare nella quotidianità. Anche il posto che frequentiamo, il terreno che calpestiamo ha una sua storia nei luoghi che vediamo. Mi viene sempre in mente due mila anni fa quando il nostro signore era da queste parti qui e quindi facciamo lo stesso percorso suo. Tornando in aereo, quando farai il pisolino, mentre prenderai il primo sonnellino dopo tanta fatica, che ricordo avrai di questo soggiorno? Ha un ricordo bellissimo, stupendo e già con la mente vai all'anno 21, già all'anno 21, i primi di gennaio sei già con la mente a immaginare di essere ancora qui, pur nella fatica, nella sofferenza, ma non vedi l'ora di ritornarci. Qui ti innamori qua così, ti innamori delle suore, ti innamori del territorio, ti innamori della gente, ti innamori di Ortas, di quelli che vivono, della gente che vive nel paese, che è sufficiente un sorriso che loro lo contraccambiano. Scendiamo ora dalla montagna dove abbiamo incontrato i volontari raccoglitori di olive, ecco, vengono qui per un lavoro, ma c'è di mezzo anche qualcosa di più spirituale, vero? Certamente, certamente. Vengono ricchi di aspettative, di attesa, di trovare in Terra Santa anche una risposta ai loro interroganti. Vengono con un cuore molto pieno di generosità e vengono molto disponibili a tutto, disponibili a pregare con noi, a condividere con noi, a fare tutto tipo di lavoro, ma anche a darsi loro stessi. E quello è il bello, no? Quando si dà questa condivisione, non tanto di lo che abbiamo o lo che facciamo, sino di quello che siamo. Grazie a tutti.